Ehi Spyro, i Ripto hanno invaso il nostro palazzo. È sabotato le macchine che azionano le nostre clessidre. Il tuo soffio saettante sarebbe perfetto per azionare le macchine. Nessuno qua intorno riuscirà a dormire. Puoi aiutarci? Stai facendo progressi con l'azionamento delle macchine? Stai. Stai facendo progressi con l'azionamento delle macchine. Stai facendo progressi con l'azionamento delle macchine.